L'energia è ovunque, il principio di tutto, l'energia madre che ha creato l'universo e ciò che esso contiene, le stelle, i pianeti, la vita, non importa quanto grande o infinitamente piccolo. Dagli oceani al fiocco di neve, dalle più alte montagne alle microscopiche parti dell'atomo, tutto deriva dalla grande esplosione che generò ogni cosa e in ogni cosa ancora vive. Tutto è energia e questo è tutto ciò che esiste, Albert Einstein. Save Energy sa che la calma, che a volte regna in natura, è solo apparente. Ciò che sembra tranquillo attende in realtà lo scoccare di una scintilla che può accendere l'uomo e dargli vita. È la forza che ci circonda e che tutto pervade, invisibile a volte, come il vento, che muove con forza le cose e che abbiamo imparato a trasformare in energia utile per l'uomo. Una forza immensa che abbiamo controllato, gestito, incanalato e addomesticato. Perché acqua, terra, aria, fuoco diventassero nel mondo che conosciamo macchine e ingranaggi, l'elettricità che accende una lampadina, la diga che imbriglia una montagna d'acqua, il motore dell'auto con cui abbiamo imparato a viaggiare senza muovere un passo. È lo sviluppo, è la crescita. Ma il cambiamento incessante, oggi, deve fare i conti con le risorse limitate di un pianeta che soffre e che dobbiamo tornare a rispettare ricordandoci che ne siamo solo una parte, non l'unica. Sperperare o, peggio, saccheggiare le risorse del nostro pianeta, la nostra casa, sarebbe irresponsabile e folle. Nel 2018, già nel mese di agosto, l'umanità ha raggiunto il livello massimo del consumo di risorse naturali oltre il quale si sperpera, ma non si rinnova. Nei restanti mesi consumiamo risorse che perderemo per sempre e ogni anno peggioriamo drasticamente la nostra situazione. Crescere senza sprechi vuol dire costruire un futuro sostenibile. Sviluppo e salvaguardia del pianeta Terra camminano insieme. Negli ultimi anni sono nate società che sanno guardare avanti. Ottimizzare le risorse e limitare gli sprechi di energia si può. Save Energy e il suo team lo fanno da 20 anni, in Italia e nel mondo. Ridurre gli sprechi energetici, valorizzare gli scarti, ottimizzare i consumi, sostenere lo sviluppo e la ricerca senza sprecare energie e risorse, grazie alla conoscenza tecnica, a soluzioni dedicate e all'alto grado di professionalità avvalendoci di partnership tecnologiche di eccellenza a livello internazionale. Abbiamo imparato dalla natura che ci circonda, dove ogni risultato, ogni conquista nasce da energie differenti, ma tutte indirizzate verso un comune obiettivo. Ed è ciò che facciamo anche noi. Come la natura respira insieme all'energia che la fa vivere, così operiamo noi, valorizzando ogni singola realtà per trovare le risposte giuste, corrette, concrete, perché crescere sia anche rispettare e difendere. Una sfida importante che abbiamo il dovere di vincere insieme. Energia, efficacia, efficienza, etica, per una sostenibilità a 360 gradi, economica, sociale ed ambientale. In una parola, Save Energy.